Il ritorno dei giovani alla terra, le imprese agricole guidate da nord a sud della Calabria dagli under 40, generazione protagonista del premio, la cui cerimonia, la consegna dei riconoscimenti, si è tenuta a Curinga, iniziativa della Coldiretti a cui ha preso parte il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. I prodotti DOP variegati di una regione ricca di potenzialità e la scommessa di ragazzi che hanno deciso di restare e investire sul territorio. Molte imprese vengono in qualche modo traghettate nel futuro proprio dalla nuova generazione, sia come imprenditori che subentrano all'attività dei propri genitori, ma sia anche come nuove imprese che vogliono intraprendere l'attività agricola. C'è più timore nell'avviare in Calabria un percorso imprenditoriale perché anche in questo settore c'è l'attenzione dell'antistato. È una preoccupazione, non è utile nasconderlo. L'andrangheta è anche presente nel mondo dell'agricoltura, soprattutto attratta dai contributi europei e dai contributi regionali, quindi bisogna stare attenti e tenerli occhi aperti. E' difficile, però questo non vuol dire mollare o non vuol dire non fare. Non ci dobbiamo rassegnare, i giovani non si dobbiamo lottare, combattere. Quando ci sono di questi problemi denunciare, avere fiducia nel forse dell'ordine, avere fiducia nella magistratura perché noi dobbiamo essere più capaci e più forti dei parassiti che sono gli indrangheta. Tra i giovani premiati, l'innovazione di aziende che realizzano ad esempio l'agrivoltaico come quello di Antonio Langellotta. La prima azienda nasce nel 2010 con l'agrumicoltura sotto fotovoltaico e adesso stiamo facendo nuovo sviluppo di agrofotovoltaico non solo in agrumicoltura ma anche in altri settori agricoli. Grazie. Grazie.